Gara sfortunata per il pilota Marco Stellino che termina anticipatamente la propria partecipazione al secondo round del campionato di italiano drifting svoltosi al circuito Le Colline di Pavia. Il portacolori del Power Drift Team è costretto a ritiro durante lo scontro con Stefano Maniscalco che sarebbe valsa la semifinale. A portare a casa il primo posto nella categoria Pro 2 è stato Amerigo Ventura alla prima gara in questo campionato che in finale ha battuto Mirella Vernacchia. Terzo gradino del podio per il giovanissimo Mattia Cunico che vince contro Stefano Maniscalco la finalina. La classe Pro ha visto la seconda affermazione stagionale per lo svizzero Yves Maier che ha avuto la meglio su Gianluca Lazzaroni. A completare il podio della classe Regina Alberto Festival che nella small final batte Ivan Vresaula. Prossimo appuntamento ancora sul circuito Pavese e Le Colline ma stavolta con un layout differente rispetto a questa gara il 21 e 22 settembre.